Un'auto usata come ariete torna la paura dei furti in un'azienda dell'Alta Padovana a essere colpita un'azienda operante nel settore dell'arredo di Alta Gamma a Loreggia in via Roma. Tra domenica e lunedì la vetrina dello showroom è stata sfondata con un'Alfa Giulietta che era stata rubata poco prima. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati con le pattuglie i carabinieri di Cittadella. Nonostante i posti di blocco organizzati immediatamente, dei banditi non c'è stata traccia. Nel frattempo è iniziata l'analisi delle immagini registrate delle telecamere di videosorveglianza. Le indagini sono in corso.